Mi chiamo Leopoldo Palomba, ho 55 anni, fin quando ho iniziato questo percorso, anche un po' scettico, però mi sono impegnato, loro mi hanno seguito molto bene e siamo riusciti ad arrivare ad un ottimo risultato, attualmente sono in peso forma perché siamo all'interno degli 80 kg. La mia esperienza precedente per altre tentativi di dieta aeropersonali trovate su internet, con risultati a volte scadenti, a volte inesistenti. Il centro l'ho conosciuto in televisione alla trasmissione Il Bello del Calcio e spinto dalla curiosità, vediamo di provare, anche perché necessità ormai era di dimagrire assolutamente, torniamo a provare questo centro e così sono arrivato qui. La mia necessità di dimagrire era fondamentalmente perché la mia attività poi di svago e ludica è di fare le versioni subacquee e quindi avevo cominciato col peso e sovrappeso a trovare difficoltà in acqua e quindi ho detto devo dimagrire. 15-16 kg di troppo e cominciavo a sentirli e mi davano fastidio e per questo ho detto vabbè prendiamo questa occasione e vediamo cosa succede. L'agosto ero quasi diventato 80 kg quindi il primo di agosto due mesi e mezzo perdere 15 kg era il risultato che ho detto ok. Io l'ho consigliato a tutti gli amici, devo essere sincero, a chi me l'ha chiesto? Ho detto come hai fatto? Ho fatto così. Quindi l'ho consigliato perché devo essere sincero? Sono la prova che effettivamente si dimagrisce, non è che è finta la cosa, quindi credo che i risultati siano reali.